La mia posizione è sicuramente favorevole al sì, una riforma che snellisce sicuramente l'apparato istituzionale. Rispetto a chi dice che si sarebbe potuto fare meglio, sono d'accordo, ma con questa logica in Italia non si farà mai nulla. Per cui condivido la riforma costituzionale così come condivido l'azzeramento finalmente del bicameralismo paritario, un Senato delle autonomie senza indennità per i senatori che comunque vengono eletti dai cittadini perché i sindaci verranno eletti dai cittadini e tra i sindaci si sceglierà il sindaco per esempio per la nostra regione che rappresenterà il Molise nel Senato delle autonomie. Il Consiglio regionale in prima attuazione sceglierà il consigliere regionale, ma in seconda battuta nelle leggi elettorali sarà prevista l'elezione anche del consigliere regionale delegato a rappresentare il Molise in Senato. Quindi comunque c'è l'espressione, la scelta direttamente delegata al cittadino. Secondo, avere uno strumento di confronto, così come oggi è la conferenza delle regioni. Noi esprimiamo pareri sulle proposte del governo, pareri che nella sagrande maggioranza dei casi vengono poi prese a riferimento dal governo e dal Parlamento. Quindi ritengo che sia uno strumento di partecipazione alle decisioni fondamentali per il nostro Paese. Quindi la mia posizione è sicuramente radicalmente e convintamente favorevole per il Sì.